No one can hold her, she's floating to heart Bentornati dalle spettatori a Mangiare Informati, il redazionale di nutrizione e dietologia, cura della dottoressa Daniela Limonta, il vostro medico dietologo. Oggi parliamo di dieta e ipertensione. L'ipertensione arteriosa è una delle patologie più diffuse nel paese industrializzati. Pensate che colpisce quasi il 20% della popolazione adulta. In Italia si stimano ben 10 milioni di adulti ipertesi e molti di loro non sanno nemmeno di esserlo. Esistono sicuramente tanti farmaci che possono controllare la pressione, ma il farmaco da solo non basta. È infatti fondamentale una modifica dello stile di vita del paziente. Il paziente iperteso deve imparare a mangiare meglio, muoversi di più, deve smettere di fumare e se è obeso deve anche calare di peso, perché il perdere peso aiuta sicuramente nel controllo dell'ipertensione. Quindi possiamo dire che il cambio dello stile di vita del paziente è fondamentale. Dal punto di vista squisitamente nutrizionale e ideologico, il paziente iperteso deve controllare il contenuto di sodio nella propria dieta. Il sodio dove è rappresentato nella nostra alimentazione? Soprattutto nel cloruro di sodio, nel nostro sale da cucina. Normalmente la popolazione adulta sana consuma dai 5 ai 6 grammi di sodio al giorno. Ecco, l'iperteso dovrebbe ridurre questa quantità, a seconda della gravità dell'ipertensione, a 1-3 grammi. E questo equivale ad usare meno il sale da cucina. Potremmo sostituirlo per dare sapore ai nostri piatti con delle spezie come il rosmarino, la salvia, l'aglio, la cipolla, il peperoncino, il curry. Sono tutte spezie che non contengono sodio e che comunque possono dare tanto sapore ai nostri piatti. Ma non è solo il sale della saliera che dobbiamo limitare. Dobbiamo anche limitare tutti i cibi che contengono e nascondono il sale. Pensate infatti a tutti gli snack salati come le patatine, le noccioline, gli snack d'aperitivo, ma anche i salumi e i formaggi che contengono proprio fonti di sodio nascoste. Possiamo dire che tutto ciò che è confezionato, elaborato, in scatola, sacchetto, scatoletta, contiene tanto sodio. Quindi dovremmo imparare a mangiare il cibo fresco, in primis la frutta e la verdura, che contengono poco sodio e tanto potassio. Esistono in commercio diversi prodotti iposodici che contengono un contenuto di sodio inferiore rispetto al prodotto classico. Pensate al pane iposodico, ai grissini, ai cracker. Questi alimenti possono sì aiutare a controllare il sodio della dieta, ma se siamo già attenti, limitando al massimo gli snack e i cimi in scatola, possono non essere così fondamentali. Lo stesso discorso si può fare con l'acqua. Esistono in commercio tante acque iposodiche. Certo che il risparmio di sodio con quest'acqua è davvero limitato, perché le acque normali, tranne alcune acque particolarmente ricche in sali per gli atleti, non sono salate, quindi già un'acqua normale qualsiasi è povera in sodio. Altro consiglio alimentare che posso dare a tutti gli ipertesi è quello di sostituire più volte a settimana la carne con il pesce. Il pesce non solo contiene meno sodio rispetto alla carne, ma anche contiene dei grassi polinsaturi della serie Omega 3, che fanno davvero bene al nostro cuore e alla nostra circolazione. Purtroppo nelle nostre province pedemontane consumiamo poco pesce, dovremmo invece imparare a mangiarlo anche tre o quattro volte la settimana. Una curiosità che riguarda la liquirizia. La liquirizia è davvero un dolce squisito, tuttavia contiene una sostanza che è chiamata glicerizzina, che ha la proprietà di aumentare la pressione. Quindi se può essere consigliata agli ipotesi, ovvero a tutti coloro che hanno la pressione bassa, deve essere consumata davvero con moderazione in tutti i pazienti ipertesi. Concludo la puntata ricordando agli ipertesi l'importanza dell'attività fisica. Qual è lo sport migliore per i pazienti ipertesi? Lo sport migliore è la camminata in piano per la durata di circa un'ora da fare tutti i giorni. Anche adesso che siamo in inverno possiamo tranquillamente camminare ben coperti. Con questo vi saluto e vi aspetto alle prossime puntate di Mangiare Informati. Buona dieta a tutti! Grazie a tutti!